Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Crusher Pacchetto 3. V-Box Crusher Pacchetto 3 per la casa, ufficio, famiglia, gaming gamer, PC, multimedia, desktop PC, USB 3.0 computer, completo pacchetto con 24 monitor, creative altoparlanti, tastiera mouse totale in pacchettare. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.